ben trovati amici stiamo testando in questi giorni il nexus 5 ormai terminale è uscito da sbariati mesi ma che comunque presenta ancora molto molto interesse per quanto riguarda il mondo ha ovviamente android perché perché è stato tra i primi smartphone a ricevere l'ultimo aggiornamento ad android 5.0 lollipop oggi faccio questo video non è una recensione magari farò una breve recensione fra qualche giorno quando avrò testato per bene questo questo dispositivo ma è solo per farvi vedere vedere così velocemente il il nexus 5 con il nuovo aggiornamento all'olipop 5.0 andiamo a vedere così velocemente quelle che sono le prime differenze estetiche e funzionali di questo sistema operativo rispetto a kit kat precedente modello innanzitutto come potete vedere notiamo qui una la differenza per quanto riguarda le notifiche io mi sono mandato un messaggio con con whatsapp e come vedete la differenza rispetto al kit kat è questo banner che troviamo sulla sul blocco schermo come come notifica premendolo due volte entriamo direttamente nell'applicazione in questo caso di whatsapp quindi questa è la prima differenza per quanto riguarda le le notifiche di lollipop poi esteticamente come potete vedere quello che cambia più che altro è la la grafica oltre che gli sfondi che sono stati rinnovati la grafica è molto più semplice più minimale e con il tanto denominato material material design quindi questa è l'interfaccia stock di lollipop scorrendo verso da sinistra verso destra andiamo in google google now qui abbiamo la home che non è come vedete non possiamo impostare il numero delle home a parte che prendere un'applicazione e spostarla e creare una nuova pagina all'interno della nostra home cos'altro è cambiato così velocemente è la tendina delle notifiche facendo uno slide dall'alto verso il basso scende la la prima sezione dove abbiamo le notifiche in questo caso non abbiamo notifiche li troveremo tutte elencate qui sotto con un pulsante dove possiamo andare a cancellarle tutte in una volta o ovviamente tappando sopra entrare nella nostra notifica facendo un altro un secondo slide entriamo nei nostri toggle rapidi dove possiamo andare a impostare con questa animazione come vedete di la luminosità del nostro dispositivo con svariati toggle rapidi che poi si modificheranno in automatico man mano che il dispositivo riconosce quelle che sono le impostazioni che usiamo più frequentemente ce l'andrà a modificare qui l'altra cosa importantissima che è stata introdotta con lollipop è la possibilità di andare a impostare più utenti sul sul nostro dispositivo io ho creato un altro profilo utente l'ho chiamato ospite cosa serve praticamente creiamo un un altro menu un altro si un altro diciamo così telefono mi viene in ovviamente se nell'ipotesi che vorremmo prestare il nostro telefono non so a un nostro conoscente o un ai nostri figli e non vogliamo che entrano nella nostra sezione privata del telefono e le mail le foto video e quant'altro e ho creato questa nuova sezione chiamata ospite entriamo vedete il passaggio pure abbastanza veloce istantanea dove ho creato praticamente un nuovo sistema operativo parallelo al principale dove troviamo l'interfaccia in questo caso stock senza nessun aggiunta di applicazione perché è praticamente impostato come nuovo nuovo nuova accensione nuovo telefono quindi non troviamo nulla ma possiamo ovviamente anche questa fase scaricare le nostre applicazioni o chi sta andando a utilizzare il nostro in questo caso nexus potrà crearsi il suo android il suo android personale ovviamente facendo lo slide come ho fatto vedere prima possiamo tornare istantaneamente quasi al nostro telefono con tutte le nostre personalizzazioni quindi questa è un'altra delle modifiche un'altra delle innovazioni che troviamo nel nostro android lollipop 5.0 ok andiamo a vedere il nostro menu del drawer anche qui abbiamo una nuova grafica rinnovata come vedete questa finestra e bianca che racchiude tutte le nostre applicazioni è molto più diciamo più minimale più simpatica anche molto più veloce vedete come istantanea la l'apertura del del drawer ovviamente sono cambiati anche i pulsanti soft touch troviamo l'indietro il pulsante per tornare alla home e il multitasking questa è un'altra delle sezioni dove lollipop andiamo ad abbassare un po la luminosità dove lollipop è andato ad intervenire graficamente come vedete il multitasking è molto più carino e diciamo così diverso rispetto a kitkat se vogliamo chiudere alcune applicazioni basta strisciare verso sinistra o verso destra e abbiamo chiuso tutte le nostre applicazioni che dire le principali differenze di lollipop diciamo che sono queste andiamo magari nel menu delle impostazioni anche qui come vedete nuova grafica nuovi effetti grafici scorriamo tutto verso il basso comunque verso l'alto abbiamo questa mezzaluna più scura che ci dice che siamo arrivati al fondo della fine del del menu e comunque in generale questo è il il nuovo lollipop sul nexus 5 quindi per il momento vi ho fatto vedere una rapida panoramica grafica e qualche funzione di del nuovo sistema operativo sul nexus 5 quindi nei prossimi giorni effettuerò una recensione del di questo terminale ma non tanto accurato tanto a fondo perché comunque il nexus lo conosciamo mai abbastanza bene il telefono comunque è sempre quello si è stato aggiornato però comunque lo smartphone rimane comunque il il medesimo quindi ragazzi ci vediamo al prossimo al prossimo video ovviamente se vi piacciono i miei video mi invito a iscrivervi al nostro canale e di commentare per esprimere i vostri pareri sul sui terminali che proviamo è ovviamente sul sulla qualità e del del video che vi offriamo per questo nexus 5 con lollipop 5.0 è tutto un saluto da stefano subtec al prossimo video ciao ragazzi